Anna, è arrivato un regalo stai ferma a parte che è ferma non guardare, è arrivato prestissimo e questo regalo a te piacerà tantissimo cos'è che tu ami fare solitamente e io non sono tanto d'accordo quando usciamo sei tutta ah, compiere una macchina scusa? compiere la macchina si, e la macchina è dentro un pacchetto di Amazon Prime secondo te ci sta la macchina? riprendere ma quando io ti riprendo tu sei sempre tutta aggiustata in che senso? cosa che ti metti in faccia? oh, ma c'è la qua i trucchi quindi ladies and gentlemen è arrivata una valigetta di trucchi di me? per te Vanessa ciao 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 Ciao!